Grazie per essere venuti, a nome del Comitato Vittime Sangue Infetto, Delegazione della Puglia abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Del Giaccio, autore di Sangue Sporco un libro che parla di sangue infetto, un tema molto sentito da parte dei danneggiati ma credo da parte dello Stato, per ognuno di noi ci può essere la testimonianza che uno Stato assente quindi questo è un piccolo vissuto personale di tutti i presenti qui quindi lascio la parola a Giovanni Grazie, buonasera, benvenuti, grazie dell'invito e grazie a Feltrinelli che ci ospita io proseguo quello che una mia collega romagnola dice sempre al tour di Raul Casadei perché stiamo girando l'Italia lungo e largo da quando è uscito il libro lo scorso anno e lo facciamo perché prima parlavo con alcuni di voi chi ha pubblicato questo libro è un piccolo editore un piccolo editore, grandi problemi di distribuzione e allora andiamo a portarlo ovunque ci viene chiesto e facendo questo libro ho scoperto ancora più casi di quelli che conoscevo e ho scoperto tante belle persone che hanno voglia di organizzare questi eventi si impegnano, rompono le scatole alle librerie, chiamano amici e coinvolgono persone è stato più che assente io direi irriverente e partiamo dalla attualità strettissima quando un ministro della Repubblica, il ministro Lorenzin che io avrei avuto il piacere di intervistare per il libro ma che si è sottratta alle dichiarazioni e lei e il personale dicendo che devono decidere dalla direzione abbiamo mandato tutto alla direzione, non si capisce che è questa direzione comunque quando un ministro dice rispetto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che è stata riconosciuta nella sentenza la somma di denaro determinata nella misura di Euro 100.000 che la somma di denaro determinata nella misura di Euro 100.000 costituisce un rimedio interno del tutto compatibile con le previsioni della Convenzione e in grado di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati questo è uno stato irriverente per non dire peggio perché alcuni di voi saranno danneggiati altri conosceranno storie di danneggiati nelle vicende che io racconto nel libro ci sono delle cose paradossali per cui 100.000 euro sono nulla al posto che c'è anche chi dice riprendo perché sono una mancia per morire quando uno dice una mancia per morire credo che abbia detto tutto e abbia risposto adeguatamente a quello che dice un ministro della nostra Repubblica questa per me è una cosa molto grave però apri un velo sulla vicenda dei risarcimento ne parlavo questa mattina venendo qui con un avvocato al telefono adesso finora lo Stato come si è difeso in queste cause ha sempre detto, ha sempre partito dal fatto che tu presentavi per avere il rimborso per avere il risarcimento presentavi il verbale della Commissione Medico-Ospedaliera che aveva stabilito dopo molto tempo con tutta la calma del mondo il nesso causale partivi da lì, lo stabilisci tu, una commissione medica pubblica fatta dai militari, terza rispetto all'ASN ha stabilito che c'è un nesso causale tra quella trasfusione della mia malattia la prima cosa che faceva il ministero diceva e che c'è tra questo? tu hai fatto una pratica amministrativa quella è una pratica amministrativa ha avuto il socorso adesso ridimostrami che sono stato io e già questo è un paradosso assoluto dopo di che si attaccava alle cose più assurde e la prescrizione per quanto riguarda il tempo e il fatto che i cinque anni che partono da quando hai fatto causa si si attaccano a tutto al punto che alcuni studi legali stanno immaginando di denunciare lo Stato italiano per lite temeraria perché una volta che hai perso e fai copia e incolla nel rispondere ai ricorsi perché di questo si parla tu fai copia e incolla rispondi ai ricorsi tutti alla stessa maniera e ti attacchi fino in Cassazione mi raccontava l'avvocato Razzarini questa mattina che aveva una sentenza c'era una ipotesi di transazione non l'hanno fatta hanno pagato la sentenza ripetendo la sentenza 1.300.000 euro sono quelli fortunati che sono riusciti a prenderli perché poi dopo non li prende poi nessuno in questo quadro si inserisce il discorso che ho fatto io con il libro che nasce dalla curiosità di un giornalista di provincia che si occupa di sanità e parlando con un avvocato che segnalava in continuazione questi casi ha detto ma quanti sono avvocati? N, non si sa solo io ne ho centinaia da nord a sud dell'Italia e leggendo le carte dei processi perché poi questo è un lavoro di inchiesta fatto così leggendo le carte dei processi e andando a parlare con le persone che hanno accettato di essere intervistate ci sono 15 casi emblematici più tanti altri l'ultimo capitolo si chiama così tanti altri situazioni spot di chi non abbiamo potuto raggiungere o non ha voluto essere intervistato ma così a titolo di esempio sempre da nord a sud dell'Italia e dalla curiosità nasce proprio ma possibile che uno debba vivere un'odizia del genere c'è la malasanità e molti medici se ci sono dei medici qui si lamentano perché c'è scrive sempre malasanità ma noi lo sapiamo il sangue del pernale a buono vero assolutamente ma ci sono episodi di non malasanità proprio maleducazione supposite cioè cose veramente nemmeno raccontabili anche se poi li abbiamo raccontati e c'è tanto accanimento e mala burocrazia questo come quadro generale abbiamo sentito dalle parole di Giovanni quello che è stato il suo lavoro per questo per questo libro io ritengo che questa è una una piaga sociale dove per l'iterra amministrativa sono coinvolte alcune migliaia di persone per coloro che sanno di avere il virus di epatite C o HIV ma in Italia si stima che alcune centinaia di migliaia di persone posseggono questo virus e non sanno di averlo il virus e vivono con una bomba ad orologeria quindi questo è veramente drammatico ed è una una storia vera non è una storia inventata da da persone o da da chi sappiamo soprattutto come il ministero pensa davanti davanti a soltanto di come dire di come facciamo catalogare di numeri o fantasmi ma non sono reali allora dico io dove faccio io di alzi ci sono pazienti che lo Stato neanche sa che noi hanno l'epatite C cioè noi che siamo stati i primi ad andare abbiamo una fortuna ma ci sono state persone che non sono riconosciute allo Stato perché non sanno niente è una mancanza di informazione quella che che abbiamo da parte di questo Stato perché all'interno di ogni struttura sanitaria di un aslo di un ospedale deve esserci un messaggio informativo da parte dell'autorità competente a dire hai fatto una trasfusione controllati prova a vedere se hai questa infezione poi vediamo tutto il resto dell'iter amministrativo poi vediamo la giustizia se è dalla parte del danneggiato o se è dalla parte dello Stato il collega Angelo Russano del Forgire del Mezzogiorno noi abbiamo iniziato perché abbiamo i tempi stretti ciao buonasera grazie di essere venuto volevo citarvi mentre si sistema un caso per esempio che racconto nel libro uno dei paradossi con cui si difendono qui è un ASL che nel fascicolo di un processo nel fascicolo di un processo riconosce che la persona è deceduta ci mancherebbe altro quella però è deceduta per l'insufficienza renale cronica con l'asso cardiocircolatorio ed è documentalmente provato che non sussiste in esso causare tra trasfusioni epatopatie e decesso peccato che fosse una paziente con epatite cronica in cirrosi e che tu provi a negare l'evidenza questa è la cosa più drammatica provi a negare l'evidenza provi a negare l'evidenza quando perdi le cause provi a negare l'evidenza di fronte a queste situazioni e io allora come la chiami una cosa del genere quando io parlo con alcuni medici come la chiami una cosa del genere io la chiamo mala sanità se da una cartella clinica non risulta una trasfusione in un piccolo ospedale della provincia di roma colleferro a un ospedale della provincia di roma una signora muore perché le fanno una sacca di sangue non c'entra l'epatite non c'entra l'EDS utilizzano una sacca di sangue di un'altra persona quindi di un altro gruppo sanguigno lei si sente male va praticamente viene trasferita al poliglino di un belto di un belto primo solo lì scopriamo che c'era una trasfusione scrivono riferita trasfusione di sangue perché a colleferro non l'hanno detto quando si sono accorti di aver sbagliato perché l'ASL Roma G adesso Roma 5 se non sbaglio ha cambiato nome perché l'ASL Roma G dice nonostante l'infermiere si sia scusato o abbia scritto una lettera ai familiari dice noi non c'entriamo nulla noi non c'entriamo questo questo è il discorso quando ci sono vicende del genere allora c'è l'autorevole collega adesso lasciamo a lui buonasera buonasera a tutti scusatemi in realtà ero giù già da dieci minuti e giravo poi per fortuna ho avuto l'idea di mandargli un messaggio io partirei se mi ha un concetto che è un quadro generale per poi andare un po' più sul dettaglio di queste storie e inizio con due citazioni rapide una è mi è venuta in mente mentre leggevo il libro Viales Drastico vi ricordate chi è il personaggio di Antonio Albanese che va a fare campagna elettorale in un ospedale e si lamentano le persone stanno in via e dicono ma qua ci sono i topi e lui dice ci sono i topi e io porto i gatti promessa promessamente e almeno lui dimostra di avere un'idea su come affrontare i temi generali i problemi strutturali della sanità l'altra l'ha prenduta dal libro di Giovanni e dice così purtroppo lei ha preso le epatite va con le prostitute si droga dice no io sono una persona per bene ho due figli mi pare dice il signore il quadro complessivo generale i topi in ospedale le strutture e poi però si trasferisce poi sulla pelle nostra delle persone che vanno in ospedale io lavoro per un giornale il Corriere del Mezzogiorno che spero voi seguiate che è molto attento ai problemi della sanità noi abbiamo condotto un'inchiesta lungo un paio di mesi sulla sanità a me ha fatto molto piacere avere l'occasione di approfondire il tema del libro perché siamo molto sensibili a questo io voglio dirvi in rapida successione alcune delle cose che abbiamo trovato parliamo della Puglia però credo che valga almeno per il Mezzogiorno e forse buona parte del paese muri sporche porte rotte a volte sfondate da noi gli ospedali quando tengono le porte aperte o mettono un estintore o una pietra il meccanismo ferma porta non è arrivato le mattonelle sono malmesse le tapparelle neppure a parlarne abbiamo trovato delle ragnatele non i topi l'avremmo saputo cosa suggerire le sale d'aspetto hanno le sedie rotte i condazionatori d'aria non funzionano le attese spesso le liste d'attesa sono infinite non sempre non dappertutto fili volanti rifiuti ospedalieri rifiuti normali depositati sui balconi contro soffitti dei pannelli io credo di raccontare cose che non vediamo tutti i giorni quando andiamo in ospedale al Fazzi di Lecce l'ospedale il più importante del Salento la sala d'aspetto del pronto soccorso in un container quando me l'ha detto il collega non è che aveva fatto lo scoop le ho detto andiamo a vedere e c'è un container stanno lì ad aspettare in ginecologia fanno i turni prendono dei cartoncini di cartone dei pezzettini di cartone con i numeri che neanche dal Salomiere si usa più fare la fila così l'ambulatore pediatrico non è mai entrato in funzione al Fazzi a San Paolo di Bari abbiamo trovato i posteggiatori abusivi gente che fuma nei corridoi a Casarano usavano le lenzuola come zerbini per pulire a Gallipoli c'erano padiglioni giusi ricoveri bloccati e l'ortopedia se non sbaglio comunque un reparto con pochissimi posti letto se in vuoto poco utilizzato abbiamo scoperto che la Puglia in proporzione ha più PET-TAC dell'Olanda ma lì non ci sono le liste d'attesa e qui sì per fare la PET-TAC è uno strumento che serve per diagnosticare il cancro se non vado errato all'oncologico di Bari ci sono tre sale operatorie perfettamente funzionanti mai utilizzate al Falacara di Trigiano abbiamo trovato 13 automediche fiammanti nuove perfettamente attrezzate pagano l'assicurazione da due anni ma le utilizzate dopo che abbiamo scritto si è mosse la Corte Conte e poi ci sono mosse finalmente anche le automediche in un mese abbiamo visitato 15 ospedali in questa inchiesta e in questo un mese e mezzo quasi due mesi abbiamo dato notizia di sette tra inchieste indagini e processi relativi a case di malasanità o sprechi c'è stato uno sciopero all'oncologico c'è un dipendente del Poliglino che è stato aggredito e ci sono stati Blitz dei Nass in quattro ospedali questa è la cornice quella che dicevo che l'Ales Rastico risolve con mettiamo i topi il quadro generale però io poi ho riflettuto su questo questa roba mi è venuta in mente leggendo il tuo libro questa cosa non è che ce l'abbiamo vinta la lotteria ce l'hanno regalata ci piove dal cielo come la pioggia no? governo ladro probabilmente c'è stato un momento in cui noi ci siamo a suoi fatti a questi in cui noi abbiamo accettato questa condizione di minorità rispetto al servizio che ci dovrebbe essere reso rispetto al nostro diritto di essere cittadini e i risultati sono questi i risultati sono che noi consideriamo ormai il servizio sanitario il servizio che ci dovrebbe essere reso sul piano sanitario una cortesia più che un diritto dalle nostre parti a volte si dice meglio un amico che un diritto abbiamo accettato e questo siamo stati noi a farlo e da noi dovrebbe partire poi la risposta a questo la reazione a questo abbiamo accettato che questo riflesso condizionato io in qualche modo vi sfido lo ammetto per me stesso spero che voi lo ammettiate anche per voi questo riflesso condizionato per cui se abbiamo un parente un amico un collega in ospedale la prima cosa che pensiamo è chi conosciamo in quell'ospedale in quel reparto chi abbiamo in quel reparto questa idea di rete che è anche una rete di protezione che ci siamo creati in qualche modo perché se no poi appunto come ne usciamo nel libro si parla di queste storie dei contagiati da epatite da HIV molte curiosità poi da chiederti da sottoporti tra gli anni 70 e gli anni 90 tu dici uno comunque è stato valutato uno degli scandali sanitari forse più inquietanti e più silenziosi se ne è parlato pochissimo questo libro getta un fascio di luce su una situazione drammatica di cui si sa pochissimo forse si sa se qualcuno è in famiglia un caso conosce qualcuno eccetera allora io inizierei se posso chiedendoti conto di un'altra citazione ne ho fatte due all'inizio e per legare un po' il discorso che ho fatto cioè dal generale in qualche modo al particolare tu riporti un bel proverbio un vecchio proverbio inglese che dice così gli errori dei magistrati finiscono in galera gli errori dei giornalisti finiscono in prima pagina gli errori dei medici finiscono al cimitero ecco gli errori dei medici io la cosa che ti chiedo è questa ma in questo scandalo in questo caso quanto c'è di errore del medico e quanto invece non è frutto di quella situazione che ho descritto che vale per la Puglia perché è provata per la Puglia però forse anche generale sì intanto con l'inchiesta che avete fatto dimostri come noi giornalisti io dico di provincia faccio quel giornalismo di prossimità andiamo a cercare ancora le cose senza aspettare le agenzie in questi giorni si riparla di sangue perché c'è la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo altrimenti è una cosa è lasciata nel dimenticatorio giovedì io ero di corta il messaggero che hai scritto il libro scrivi tu di questa vicenda della Corte Europea dei diritti dell'uomo cosa che avevamo proposto più volte però non c'è agenzia non c'è nulla quindi che lo facciamo a fare no? quanto c'è di errore del medico e quanto invece di situazione generale? c'è molto di situazione generale perché quando una cosa che è importantissima da dire lo dico ovunque sono stato anche all'Avis a fare una delle presentazioni non possiamo fare l'equazione tra sfusione uguale infezione il sangue serve il sangue salva la vita in molte occasioni quando i medici dei casi che raccontiamo qui utilizzavano quel sangue sapevano che era sangue buono c'era una certa facilità il sangue si dava a tutti diceva tanto un po' di sangue non fa male c'è il caso di un signore napoletano 250 cc di sangue per un intervento banale che non serviva ha preso le patite una donna invece aveva bisogno delle trasfusioni dalla nascita del figlio la cosa più bella che possa accadere al mondo alla tragedia delle patite per una trasfusione fatta con la scorta della polizia arrivata dai sacchi di sangue era infetto allora il medico D ha sbagliato no quella trasfusione serviva ha sbagliato chi non ha controllato chi dopo aver scoperto che c'erano persone infettate che donavano ha continuato a farle donare chi non ha fatto quella che diceva prima Aldo una campagna di prevenzione degna di dare nome nessuno di noi vede fuori dello studio di un medico di base il cartello hai fatto trasfusione dagli anni 70 e 90 fai un controllo perché le patite hanno una malattia accidente il virus dorme anche 30 anni e quando si sveglia comincia l'odissea comincia l'odissea e quando comincia e dal punto di vista personale e dal punto di vista burocratico amministrativo ti uccidono praticamente e se per caso in molte vicende è successo muori devono ricominciare gli eredi è una battaglia senza fine per avere un riconoscimento che non ti restituisce la depressione che hai avuto i problemi familiari il marito che è scappato perché poi ho scoperto tanti mariti coraggiosi devo dire mogli no mariti sì coraggiosi che sono scappati non ti restituisci i figli morti come nel caso di un signore che ne ha persi due per AIDS a causa degli amoderivati però almeno ti dà un riconoscimento tra le storie che racconto c'è un signore che dice di no all'indennizzo che riconosce dei 100.000 euro dice io lo lascio ai pronipoti ma voglio che qualcuno riconosca quello che mi hanno fatto questo è allora ma la sanità nel momento in cui il medico dice ti prostituisci sei stato a prostitute o un medico donna dice a una donna romena che ha le patite ma tu ti prostituisci no è romena allora siccome è romena romena guare prostituta no? ecco non è malissima sanità no? ma poi ce n'è anche tanta di buona tutti i giorni negli ospedali costretti in queste condizioni quando l'abbiamo presentata all'Avis c'è la nostra comune amica Gabriella De Vito che ci ha messo poi in contatto che dice parlare di mala giustizia di mala politica quando ci stanno situazioni come più pet che di quelle che stanno inolando quella è mala politica dovevano accontentare il paese di turno l'amico di turno no? a Roma ci sono 29 emodinamiche l'emodinamica serve in caso di urgenza cardiologica ce ne sono 29 ne va uno ogni 500.000 abitanti fatevi un conto ce ne stanno quante di più? molte 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 di più nelle storie che raccolti ci sono situazioni appunto incredibili da brividi in qualche modo non in qualche modo lesive della dignità diciamo del paziente del cittadino e io l'ho verificato anche nell'inchiesta che abbiamo fatto quando un cittadino si vede lesa la propria dignità a volte si vergogna arrossisce per colpe che non sono sue ti chiedevo vorrei sapere se tra le tante persone ti hai incontrato hai avuto la sensazione che appunto qualcuno provasse vergogna per la malattia che aveva pur non avendo nessun malato non è mai colpevole però ci siamo capiti si e sono quelli che non hanno voluto che si mettesse il loro nome nel libro trovate storie tutte tremendamente vere tutti i fascicoli processuali studiati uno per uno ma nel momento in cui sulla liberatoria chiedevo se volessero mettere il nome oppure no hanno detto forse è meglio le no perché non lo sanno ancora tutti perché magari l'amico della porta accanto non sa che è rimasto magari l'unico amico in una delle storie di un signore un carrozziere che per un incidente banale con una frattura di femore scopre dopo tanti anni di avere le patite e addirittura ci sono i parenti che si sono rinuncanati come se fosse un appestato lui il nome lo fa tranquillamente dice non mi interessa però tanti altri purtroppo si vergognano c'è anche la storia forse conviene accennarla di una persona che gli è rimasto il dubbio di aver infettato il suocero sì perché il suocero è morto e lui pensa che è morto di R.C. Rosi e lui pensa teme di averlo infettato lui si tratta di un pittore di Napoli un pittore di Ile di Napoli che per la trasfusione quella che vi dicevo prima di 250 a Cicci ha preso le patite tra l'altro una storia particolare perché la madre era testimone di Geova non voleva che si facesse la trasfusione ma è arrivata troppo tardi l'avevano già fatta quindi pensate voi insomma in che situazione e siccome aveva vissuto con il suocero siccome è una malattia silente il suocero è morto per le patite magari ha preso la lametta mia che ne sai che con quella si è infettato quindi non solo dice non vado a fare il fibroscan questo è simpaticissimo non vado a fare il fibroscan perché detto quello sta a 2 il fibroscan è un esame che si fa non invasivo per vedere com'è la condizione del fegato a seconda delle tacche del fibroscan 0, 1, 2 a 3 stai vicino alla cirrosi e lui ha fatto dottor quello sta a 2 quando arriva a 3 e non voleva saperlo non lo voglio sapere ecco quindi c'è anche questo anche questo dimore poi vergogna tanta di quelli che hanno paura a farlo sapere alcuni per esempio non hanno accettato c'erano storie che io avrei approfondito volentieri non hanno accettato di fare l'intervista perché abbiamo già pagato abbastanza siamo già esposti abbastanza non vogliamo uscire sul libro neanche senza senti ma come nasce un libro così cioè tu ti occupi sempre di sanità ti sei occupato in particolare di questa cosa ti sei appassionato c'è una storia familiare no storia familiare no però mi occupo di sanità da sempre e sono uno di quelli che viene chiamato da tutti nel momento in cui c'è un parente in ospedale ma che conosci come giornalista tutti quanti allora che ne so vi faccio un esempio banale devo fare la tac chi conosci scusa hai chiamato il cup perché se te la danno fra una settimana fai la tac tranquillamente se è una cosa urgentissima vediamo che cosa io fai altrimenti aspetti quello che devi aspettare insomma c'è questo cosa diciamo che chiamo l'amico giornalista e frequento l'ospedale quotidianamente facciamo come dicevo prima i giri quotidiani di cronaca e c'è questo avvocato che ogni tanto mandava dei casi allora io ho chiesto ma quanti sono e lui ha detto n non lo sappiamo solo io ci hanno centinaia e in Italia ci sono studi alcuni studi specializzati che ce ne hanno centinaia ho cominciato a leggere queste storie ho detto qua ci vuole un libro e devo fare un plauso lo faccio sempre a questo piccolo editore dicevamo all'inizio piccolo editore grandi problemi di distribuzione perché l'ho proposto anche agli editori impegnati caos edizioni chiare lettere che hanno preferito ho visto l'argomento sovrassenere perché è una cosa che dà fastidio noi siamo andati a fare una presentazione a Gallicame in provincia di Lucca e a due passi dal gruppo Marcucci che sugli anni derivati ha fatto Marcucci è deputato del PD e allora una sala ce l'aveva notata e dice no è occupata alle sede di nove o alle nove di sede era occupata l'altra che ci hanno dato l'associazione partigiani il sindaco ha chiamato per dire vedete un po' forse è il caso di non fare perché è un argomento spinoso e non affrontato salvo quando la corte europea dei diritti dell'uomo ci condanna io farei una domanda anche associazioni che in fondo è la più banale la più semplice che vi è cioè di cosa avete bisogno cosa vi manca che interlocuzioni avete con l'amministrazione e la politica regionale Giovanni devi sapere che per esempio in Puglia noi abbiamo un assessore alla sanità che divide il suo tempo facendo il presidente della regione l'assessore alla sanità il segretario regionale del PD quindi è molto impegnato io più volte ho scritto che una persona normale che abbia dei figli attento riesce a fare il padre di famiglia è un lavoro farne tre è particolarmente complicato di quello che abbiamo bisogno è soprattutto la partecipazione dei danneggiati quindi abbiamo bisogno delle persone che sono state danneggiate per tenere alta l'attenzione e l'attenzione di questo problema perché come prima ha detto Giovanni molta gente non vuole mettere il proprio nome non vuole mettere la propria faccia per perché viene etichettato come una ecco un infettato di quello che abbiamo bisogno a livello diciamo burocratico quindi regionale abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che sia più celere nel risolvere i problemi dei danneggiati quando si va all'ufficio regionale all'assessorato regionale e parliamo con i dirigenti i dirigenti sono subito pronti a mettere firma sull'atto dirigenziale ma chi lavora su quell'atto è lentissimo impiega mesi se non anni per risolvere la nostra questione abbiamo diversi capitoli aperti riguardo gli arritratti del 210 che è una legge che tutela il danneggiato da sangue infetto abbiamo un capitolo aperto riguardo la transazione equa riparazione con lo Stato che va avanti dal 2007 siamo al 2016 ci sono passati quasi dieci anni e il capitolo è ancora aperto dall'altra parte non abbiamo la rispondenza giusta abbiamo sì stiamo provvedendo stiamo facendo ma quello che sono i risultati qui ci sono tante testimonianze ci sono tante persone che sono venute con me negli uffici preposti ma dei risultati effettivi efficaci ne abbiamo trovati ben pochi e questa roba in qualche modo tu la racconti a me ha colpito molto il rifiuto o comunque l'esigenza di decidere se accettare o meno quella che qualcuno chiama nel libro la mancia per morire la spieghi bene questa mancia sì e questo lo dicevamo proprio all'inizio c'è il ministro che l'altro giorno ha detto che è un adeguato è una somma un adeguato ristore ai soggetti danneggiati 100.000 euro 100.000 euro sono stati inseriti questi 100.000 euro perché questo siccome sempre il ministro dice che è stata fortemente voluta dal ministro Lorenzin questa equa ebbene se una cosa è fortemente voluta secondo me non si nasconde con l'articolo 27 bis perché in Italia un bis non si può mai mancare a nessuno di una legge un decreto legge che dice misure urgenti per la semplificazione della trasparenza amministrativa e il funzionamento degli uffici giudiziari voi vi dite che c'entra la vicenda del sangue con questo questo in realtà c'era una transazione aperta iniziale nel 2007 su migliaia di casi sono almeno 66.000 quelli che ancora giacciono fermi così ma ce ne sono potenzialmente n non si riesce ancora a quantificare proprio per quello che dicevamo prima allora dice facciamo una equa riparazione 400 sì va bene mettiamo i soldi in finanziare i soldi non ci sono arriva a Montia 400 300 alla fine che è arrivato Renzi 100.000 con i 2 miliardi di euro stanziati pagando 100.000 euro a chi accetterà risparmiano 1 miliardo e 300.000 1 miliardo e 200.000 euro e hanno fatto il taglio su i poveri disgraziati allora c'è quello che deve avere oltre un milione di euro che dice io lo lascio erroni vuoti ma una causa normale da oltre un milione di euro siccome le spese legali sono a carico di chi firma la transazione lo Stato dice io sto a posto ho finito non voglio sapere più niente le spese legali delle paghi tu i 100.000 euro a volte servono solo per l'avvocaggio quasi insomma allora quello prende la mancia perché sa che gli è rimasto poco l'altro dice io lo lascio con i voti perché è un signore agiato che sta bene che vive grazie al fatto che ha un tenore di vita molto buono fa coltoso e allora dice io posso aspettare i propri voti ne beneficeranno però questo è il caso secondo me più assurdo che racconto nel libro ve lo dico brevemente questo è un signore di Milano che aveva bisogno della trasfusione perché se no moriva aveva l'emoglobina 3,4 quindi niente viene portato in ospedale fa 22 trasfusioni una di queste sacche di sangue è sottoposta al periodo finestra di un test che si chiamava Elisa o Elisa per la IDS si scopre che il test è positivo qualche giorno dopo allora se io esco da qui in macchina e al parcheggio do una botta non trovo nessuno io voglio ancora sperare che in questo paese il 90% di noi l'80% metto un foglio e dice questa è la mia targa questo è il mio numero che cosa succede all'ospedale Sacco di Milano nessuno dice niente anzi al poliplinico da cui arrivava la sacca nessuno dice niente 5 anni dopo questo signore si sente male la febbre sale la febbre sale e scende gli propongono di fare il test dice io avevo fatto sempre una vita tranquilla con mia moglie sempre non avevo mai fatto comportamenti a nome si scopre l'HIV quasi si complimentano perché lui è facoltoso no? dico eh complimenti abbiamo preso è bravo lui spacca tutto fa un macello e inizia cercano di risalire come poteva essere successo quella sacca era infetta se ne erano accorti 10 giorni dopo non lo avevano detto lui per 5 anni poteva infettare da moglie per fortuna non è successo moglie che continuava a fare i test in continuazione perché aveva paura no? perché giustamente qua alla fine ha detto signora non ci venga più ma poteva essere davvero un divertino aver infettato mezzo mondo nessuno gli aveva detto niente sapete chi era il primario del poliplinico del trasfusionale del poliplinico di Milano? Girolamo Sirtia che abbiamo fatto ministro della salute questa è l'Italia purtroppo che però ha contribuito a fare il metro di fumare sì perché con lui io mi sono arreso mi piaceva molto come raccontavi questa storia ce n'è una che ti ha colpito di più non dal punto di vista giornalistico ma dal punto di vista umano che ti ha segnato in qualche modo che ti porti dietro allora ce ne sono due c'è la storia di una bambina down adesso ragazza down che sa di essere nel libro ma non ha potuto sostenere l'intervista l'hanno fatta i genitori c'è l'abbraccio che mi fa quando finisce questa intervista perché lei si è sentita protagonista ma è paradossale perché lei era data per morte appena nata dicono ai genitori accendete un cielo se credete viene operata la Marcellini il professor Marcellini e viene utilizzato del sangue purtroppo non controllato e prende le patite e i genitori dicono ci mancava solo le patite lei adesso sa deve stare attenta a quello a quell'altro eccetera però era contenta di essere protagonista del libro questa è una cosa positiva poi c'è il voto che io non riesco a dimenticare di un medico una donna che da medico pensate dice avevo raggiunto la stabilità dal punto di vista lavorativo ero soddisfatta con una persona accanto decido di avere un figlio faccio gli esami e lei è rinunciata da un figlio la faccia di questa dottoressa i suoi occhi azzurri bellissimi ma velati di tristezza non ha mai accennato un sorriso durante la la nostra chiacchierata abbiamo preso un caffè è stata una cosa tristissima guardate e questa è quella che forse mi ha segnato di più senti una domanda tecnica diciamo da giornalisti e tra giornalisti voi tutti vi ricorderete come si chiamava l'inchiesta sulle tangenti milanese del 1992 mani pulite poi c'è stata quando fanno le scommesse nel calcio si chiamano piedi puliti purtroppo c'è stato anche un penne pulite a un certo punto a te invece scusami sangue sport ma ci hai pensato a questa cosa cioè normalmente noi ci mettiamo il pulito dopo per indicare che va ripulito no questa devo dire la verità non ci ho pensato sul titolo c'è stato qualche tra l'altro l'editore ha voluto che si inserisse mala sanità nel titolo perché dice prende di più mala sanità è una cosa che attira e questo ha fatto un po' girare i medici tanti amici medici escluso il presidente dell'ordine dei medici di Latina che è venuto a presentarlo presentare il libro però è venuto sangue sporco così proprio perché sono state fatte le porcherie ai danni dei cittadini infettati quando mi capita di commentare delle notizie di cronaca sulla sanità dico sempre che almeno in Puglia ma credo valga per il paese la sanità si muove dentro due binari un binario è quello dell'emergenza e l'altro è quello dell'eccellenza spesso l'emergenza è quella di cui parlavamo prima quella strutturale e invece l'eccellenza è quella del lavoro di moltissimi medici serissimo fatto anche con grandi sacrifici fanno turni pesanti lavorano anche più di quello che devono gli infermieri c'è un personale di qualità allora immagino che nel corso del tuo lavoro non abbia trovato soltanto come dire cattive notizie brutte storie storiacce ecco soltanto il binario che tu non avessi percorso soltanto il binario dell'emergenza in qualche modo qualche caso di eccellenza anche nella risposta burocratica diciamo della sanità ti è capitato di incrociarlo poi magari due domande però due domande e poi dovremo sì per fortuna per fortuna sì la storia più bella che ho scritto che riguarda tra l'altro la nascita di una bambina è una bambina nata sul cielo di Ponza questo parto precipitoso hanno fatto partorire l'elicottero e l'elicottero è stato la donna ha partorito l'elicottero e l'elicottero è stato messo al massimo dei termosifoni perché è diventato un incubatrice e l'infermiera dice stavamo squagliando noi però per salvare la bambina però quelli la burocrazia l'altro aspetto dice dove è nata la mamma dice no è nata a Ponza e invece per una stranissima cosa italiana nasce dove a terra l'elicottero e quindi risulta proprio è nata a fuori dice no è nata a fuori è nata sul cielo di Ponza Alice l'aspetto burocratico farmaco antitumorale prescritto dall'istituto Besta di Milano mandato all'ASL la farmacia dice noi non lo diamo dice ma come si mettono d'accordo eccetera il direttore generale dell'ASL prende dice il farmaco si dà non mi interessa male che vada pago io se questo è il farmaco che deve prendere prende ci sono dei casi ci sono fermo restando che come mi dicono i medici e come mi disse un vecchio sindaco dice tu scrivi sempre di quelli che muoiono mai di quelli che salviamo il sindaco mi disse scrivi sempre le lampadine spegne non è che sono tutte accese ma tu ci stai e per salvare i pazienti e per tenere le lampadine accese ma si dice si dice sempre che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce noi per dovere professionale ci occupiamo più degli alberi che cadono ci sono ancora domande se no volevo ricordare Romano c'è proprio un'agenzia del 14 due o tre giorni fa che la sentenza dell'accordo europeo a cui facevo il riferimento parte da Lecce parte da un ricorso fatto da un'associazione leccese io se tu se vuoi aggiungere voglio fare i ringraziamenti una cosa che io uso sempre perché è una frase che ho rubato a una grande persona del nostro paese che era Rita Ledevi Montalcini e la cito proprio alla fine del libro lei facendo riferimento alla ricerca sul cervello dice alle soglie del terzo millennio l'umana gente non ha abbandonato ancora la partita e aspira se non all'impossibile vittoria almeno a una concessione da parte dell'avversario che lo concidi con se stesso e mitichi la sua angoscia assistenziale qui troppo spesso anzi l'avversario è lo Stato sarebbe ora che cominciasse a mitigare l'angoscia delle persone che ha iniziato a fare io cedo il microfono a lui e poi vi saluto io faccio ringraziamenti a Giovanni Del Giaccio e ad Angelo Russano e a Feltrinelli che ci ha ospitato e a tutti voi che avete partecipato grazie mille da parte del comitato vittime sangue infetto delegazione Puglia grazie 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 mille e buonasera grazie a tutti